Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Il Grillo rifiutato, Beppe Grillo rifiutato. Il secondo video questo, dopo quello immediatamente precedente, intitolato Grillo, Beppe Grillo in politica. In quel video dicevo che non c'era da sorprendersi che Beppe Grillo avesse deciso di entrare in politica perché ormai la strada maestra per entrare in politica è quella dello spettacolo. Dal cinema, dalla televisione e anche dalla stampa ci si fa un nome, ci si fa un nome nello spettacolo, ci si fa un nome in televisione e ci si fa un nome e poi si entra in politica con tutto il seguito che uno si è procurato facendo appunto lo spettacolo. ce ne sono di parlamentari, ce ne sono sia di parlamentari provenienti dalla politica, ce ne sono sia nel centro-destra che nel centro-sinistra. Beppe Grillo però, decidendo di entrare in politica, aveva scelto la scorciatoia delle primarie nel PD perché le elezioni politiche ci saranno, mi pare, nel 2012. Ora, io nel precedente video, Beppe Grillo in politica, proponevo a Beppe Grillo una sfida più forte di quella di entrare nel PD, cioè di provare a entrare nel PD. la sfida più forte, perché è facile entrare con tutta la sua notorietà, è facile entrare in un partito già costituito come il PD o anche come l'Italia dei Valori, troppo facile. invece Beppe Grillo dovrebbe provare a costituire un suo partito, un suo partito, ma è già stato detto da qualcuno, mi pare questo, lo può costituire facilmente un suo partito. però facendo presa su tutti i rivoli, gli sterminati rivoli della sinistra attualmente extra parlamentare, cioè mettendosi a dialogare con Nichi Vendola, con Oliviero Di Liberto, con Fausto Bertinotti e con tutti gli altri leader della sinistra attualmente extra parlamentare, ecco quella era una sfida all'altezza di Grillo. ripeto, troppo facile per Beppe Grillo cercare di entrare in politica inserendosi in un partito già ben costituito come il PD o come poteva essere anche l'Italia dei Valori, e il PD non l'ha voluto, era quasi scontato il no del PD. il PD ha già tanti problemi al proprio interno, nella contrapposizione tra le due anime, l'anima veramente laica e l'altra anima che guarda un pochettino alle tematiche del Vaticano. non poteva permettersi di gestire al proprio interno anche una figura come Beppe Grillo. Allora, Beppe Grillo, io lo invito di nuovo a entrare in politica, ad attendere il 2012, ma intanto a organizzare un programma che veda riunirsi attorno a Beppe Grillo, alla notorietà, al vasto consenso che ha in Italia tra i giovani, a vedere riunite tutte le anime della sinistra attualmente extraparlamentare, in modo che si formi un partito veramente, veramente laico, capace anche un domani di confluire sotto la leadership di Beppe Grillo nel PD. Quindi nel PD. Ora c'è da notare però che molti, molti blogger mi hanno scritto che a loro non piace un Beppe Grillo che intende entrare in politica, perché entrare in politica vuol dire agognare un seggio in Parlamento e quando si entra in Parlamento non si ha più la forza propositiva di quando si sta fuori dal Parlamento. Andare dentro il Parlamento vuol dire beneficiare degli infiniti benefici di cui godono i parlamentari e incominciare a perdere il contatto con il reale andamento delle cose. Poi molti altri mi hanno scritto che loro non avrebbero capito come un Beppe Grillo potesse stare dentro il PD, perché benché Beppe Grillo abbia una visione laica dello Stato, però tanti grillini, stranamente mi è stato scritto così nei commenti al video precedente, sono cattolici e quindi sino a quando Beppe Grillo sta fuori dalla politica avrebbe un grosso seguito entrando in politica e questo seguito potrebbe calare. Beppe Grillo deve aspettare il 2012, intanto però si prepari a un lavoro di tessitura come fece il Cavour a suo tempo per tessere l'unità d'Italia, che è un lavoro di tessitura nei confronti di Nichi Vendola, Oliviero Di Liberto, Fausto Bertilotti, eccetera, eccetera, eccetera. Però è Beppe Grillo che è stato rifiutato dal PD, rifiutato seccamente, seccamente. E Beppe Grillo si ricordi però che se dovesse tornare al potere il centrosinistra come ai tempi di Romano Prodi, Beppe Grillo si ricordi che se torna al potere il centrosinistra e il centrosinistra probabilmente rifarà quello che fece ai tempi di Romano Prodi, e cioè il ministro dell'economia di un nuovo governo di centrosinistra darà disposizione di nuovo all'Agenzia delle Entrate di mettere sul web, su internet, di mettere online tutte le dichiarazioni redditi. Quindi non lo so se a Beppe Grillo gli conviene lottare per rimettere insieme tutti i vari rivoli dell'attuale sinistra extraparlamentare o se gli convenga che vada al potere anche l'attuale IDV con il PD. Perché si deve aspettare che se vanno al potere l'IDV e il PD con una coalizione che assomiglia un po' a quella del vecchio governo Romano Prodi e si deve aspettare pure un provvedimento di vera trasparenza come fu quello del governo Prodi che verso la fine della sua esistenza dette disposizione all'Agenzia delle Entrate di mettere online tutti i redditi degli italiani. E ci andarono online tutti i redditi degli italiani. Io me li sono conservati i giornali di allora con i vari redditi delle persone che contano. Beppe Grillo però si infuriò perché tutti i suoi grillini e anche gli altri vengono a sapere che egli nel 2004-2005 aveva denunciato 4-5 milioni di euro per cui lo stesso Pier Giorgio Di Freddi ricordo che quando vide il reddito online di Beppe Grillo si disse ma come ha fatto Beppe Grillo a guadagnare tutti questi soldi? Allora certamente i soldi di Beppe Grillo sono stati guadagnati onestamente su questi soldi guadagnati onestamente Beppe Grillo le tasse le ha pagate tutte non risulta che lui abbia mai portato soldi all'estero come ha fatto Valentino Rossi, Pavarotti, Sofia Lorch, fece Sofia Lorch nei suoi tempi ma tanti 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 altri tanti altri non risulta. Però quando tutti vennero a sapere che Beppe Grillo aveva denunciato 4-5 milioni di euro nel 2005 tanti i gridini restarono delusi perché si posero il problema come fa uno a far cadere o a modificare la casta se egli stesso come reddito appartiene alla casta. Quindi non lo so se gli conviene a Beppe Grillo lottare tramite il suo globe per rimettere a posto le anime attualmente extraparlamentari della sinistra dialogare con Oliviero Di Liberto, Nichi Vendola, Fausto Bertinotti non so se gli convenga. Non so se a Beppe Grillo convenga che vada al potere il centro-sinistra perché se va al potere il centro-sinistra Beppe Grillo non può più parlare dello psico-nano perché se Berlusconi cade con chi se la prende Beppe Grillo? Quindi io penso che sotto sotto Beppe Grillo sia contento che il PD gli abbia detto di no e che sotto sotto Beppe Grillo non voglia per niente rimettere in piedi, riunire tutte le anime della sinistra perché guai, guai, guai per Beppe Grillo se il centro-sinistra, un buon centro-sinistra ben compattato dovesse andare al governo e gli rimettono subito online tutti i redditi degli italiani e compreso il rettito di Beppe Grillo quindi a Beppe Grillo gli conviene continuare a cantare come il Grillo parlante di Pinocchio sul suo blog e sperando che questo governo resista a lungo e magari anche nella legislatura successiva a tutto l'interesse Beppe Grillo che lo psico-nano resti in piedi, il suo psico-nano, va bene cari amici? Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni